Il Presidente Berlusconi, buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito a ascoltare il suo pensiero al domani prima del ballottaggio. Grazie a voi. I napoletali si chiedono se questa legge speciale di cui tanto parla Lettieri sia veramente una sua precisa volontà verso Napoli e Napoletania. Guardi, noi abbiamo già fatto delle leggi speciali per delle situazioni che richiedevano un intervento dello Stato perché i comuni non potevano da soli con le loro forze arrivare a realizzare certi progetti che invece si imponevano nelle varie realtà locali. A Napoli ci sono diverse situazioni che richiedono un intervento da parte del Governo centrale. Tra queste situazioni ce n'è una che mi ha toccato particolarmente. Lei sa che c'è un provvedimento di abbattimento di circa 60.000 case tra Napoli e i comuni vicini. Molte di queste case sono case realizzate in economia da delle famiglie che hanno in questa casa la loro unica possibilità di avere un tetto e che se fossero buttati fuori da una casa per vederne l'abbattimento non saprebbero proprio dove andare. Allora noi abbiamo intenzione nei consigli dei ministri prossimi di decretare una sosta dell'abbattimento almeno fino alla fine dell'anno in modo che ci possa essere un esame approfondito situazione per situazione per vedere ciò che è stato frutto di una speculazione e ciò che invece è stato realizzato dalle singole famiglie e che era l'unico modo per darsi una casa. e in molti casi noi abbiamo ascoltando le famiglie visto che non c'era stata una licenza edilizia per i tempi incredibili che il comune di Napoli impiegava per dare una licenza e molti di questi ci hanno detto che non avevano avuto la licenza perché non erano riusciti quindi andare negli uffici del comune è una loro parola con una busta in bocca. Quindi noi sospenderemo l'abbattimento di queste case, ci sarà il modo per approfondire ogni singola situazione e bisognerà per quelle famiglie che abitano in immobili che si devono abbattere perché sono inconcepibili con il paesaggio e con il decoro urbano di costruire delle case. Io ho realizzato delle case per 30.000 persone in 5 mesi in Abruzzo, è un sistema che mi deriva dalla mia precedente attività di costruttore, in 5 mesi si possono fare queste case come le abbiamo fatte in Abruzzo. Ecco noi riteniamo che questo si debba fare anche a Napoli e riteniamo che quindi sia giusto profittare di questo tempo prima di passare ad un abbattimento diciamo così generalizzato di queste situazioni. Ecco Italia Mia, la nostra emittente ha fatto dei sondaggi anche in città tra la gente e una delle preoccupazioni, delle paure che nasce da alcuni nostri concittadini sta nel rapporto con la Liga. Le notizie che da adesso non è riuscito neanche a cantare a Milano, che ha avuto degli improperi su internet, fanno sì che questo clima tra nord e sud sia un po' inasprito per questa campagna elettorale. Non c'è ragione, guardi, di preoccupazione. La Lega sente in maniera particolare il momento elettorale e quindi nel momento elettorale cercano di usare anche argomenti diciamo così non moderati per acquisire il consenso da parte di quelli che loro pensano siano i loro elettori aperti a certi argomenti. Io però in tanti anni ormai di alleanza e di governo con la Lega non ho mai trovato in loro un argomento esasperato che si sia dovuto tradurre in realtà. Soprattutto su Napoli non hanno nulla su cui intervenire quindi credo che i napoletani debbano stare nella più assoluta tranquillità a riguardo. Ecco Presidente, Lettieri se dovesse essere il sindaco di Napoli si troverà naturalmente a far fronte a alcuni grossi problemi che gli ha lasciato questa sinistra per tutti questi anni. Le pensa sarà in grado di poterli affrontare? Per esempio la questione dei rifiuti ma anche capire questa città a cosa è votata, a un terziario, a un turismo? È anzitutto votata a ritornare la Napoli che tutto il mondo ammirava per la sua storia, per le sue bellezze naturali, per le sue ricchezze artistiche. È diventata invece sciaguratamente una Napoli che si è segnalata in tutto il mondo per la tragedia dei rifiuti, qualcosa di davvero incredibile, come unica città che non ha saputo adempiere ad un servizio essenziale di una comunità. Quindi occorrerà innanzitutto garantire a Napoli e ai suoi cittadini che si possa risolvere questo servizio. Io ero riuscito miracolosamente in 58 giorni, appena eletto, a pulire Napoli e la campagna. Me ne ero ritornato a Roma avendo lasciato un chiaro progetto al comune e alla regione di Bassolino che indicava come necessario l'incremento della raccolta differenziata al 30% in due anni, la realizzazione di un sito di compostaggio e infine la gara d'appalto e la realizzazione di un termovalorizzatore. A oltre due anni data nulla di questo è stato fatto e quindi la città si trova di nuovo nelle condizioni pregresse e ora si vorrebbe mettere in mano a una maggioranza di estrema sinistra o del partito di Di Pietro insieme a un sindaco che non ha nessuna esperienza né gestionale né amministrativa, che ha fatto un unico lavoro, quello del magistrato, dove si è segnalato negativamente, nessuno dei processi che ha portato avanti, a volte incarcerando anche persone che poi sono risultate innocenti, è andato a buon fine secondo il suo terrema accusatorio e i suoi colleghi magistrati attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura l'hanno poi censurato, gli hanno tolto la funzione del pubblico ministero, cioè del magistrato che agisce da solo e l'hanno spostato di sede, quindi un fallimento completo. Lui si è presentato a Napoli con questo suo talento da agitatore politico e ha cercato di raccontarsi e di presentarsi in una maniera diversa dalla sua sostanza vera, che è una sostanza di incapace. Quando in una trasmissione televisiva, mi sembra dalla annunziata, gli è stato detto che cosa intendesse per ciclo, per la raccolta, completo della raccolta, della trasformazione dei rifiuti, ha mostrato di non essere al corrente della situazione e si è inventato delle soluzioni che sono veramente ridicole. Quindi i napoletani, che io considero delle persone assolutamente intelligenti, non credo che si vogliano fare male da soli, consegnando la propria città a un personaggio simile, a una maggioranza simile e poi non vengano a lamentarsi se si sono fatti male da soli. Lei ha sempre avuto parole di apprezzamento per la città di Napoli, per la musica, per la cultura, ma anche per lo sport. E allora le chiedo subito quello che mi hanno chiesto tanti napoletani che abbiamo intervistato, tanti tifosi del Napoli, che Berlusconi non ci tocchi, am sick. Lei che cosa può dire? Io non ho mai portato via una bandiera a nessuna squadra, mi hanno accusato una volta di aver preso Nesta dalla Lazio. Io avevo detto che non prenderò Totti dalla Roma, non prenderò Nesta dalla Lazio, ma poi è stata la Lazio che per motivi di bilancio interni ha messo sul mercato Nesta e stava per essere preso dalla Juventus. In quel caso io sono sceso anche io in campo e ho convinto Nesta a venire al Milan. In questo caso voglio rassicurare completamente i tifosi napoletani che finalmente, e lo meritavano, hanno un presidente molto bravo, hanno una squadra molto brava e quindi io credo che avranno molte soddisfazioni da questo presidente e da questa squadra e li rassicuro assolutamente. Amsic non interessa al Milan per due motivi. Il primo che è la bandiera del Napoli attuale e quindi ho detto le bandiere non si toccano. Il secondo perché il suo ruolo nel Milan è già occupato in una maniera che ci soddisfa molto. Presidente, concludiamo questa intervista per la nostra emittente Italia Mia, un canale che si occupa di politica tutto l'anno, non soltanto quando ci sono le elezioni, dando spazio a candidati di tutti i partiti nella migliore interpretazione delle sue aziende che danno spazio a tutti. Le chiedo che cosa sarà di Napoli, che cosa ne sarà di Napoli nel breve. C'è la possibilità di riscattarsi, abbiamo problemi anche a livello di lavoro con la Fincantieri, con aziende che trovano difficoltà anche a ripetire il danaro dalle banche e quindi difficile accesso al credito. Ecco, lei sotto questo aspetto che cosa può dire a tanti industriali, a tanti imprenditori, a tanti artigiani, ai commercianti, alla gente comune? Bisogna risolvere i problemi che hanno ultimamente afflitto Napoli, bisogna riportare Napoli al decoro che merita, bisogna far sì che possa ritornare ad essere una meta ambita dal turismo e dai turisti di tutto il mondo, bisogna perseverare nella creazione di nuove intraprese, bisogna cercare di dare ai ragazzi di Napoli la possibilità di non dover andare al nord o all'estero, ma di trovare qui l'offerta di impiego, bisogna far lavorare l'edilizia, questo è importante, quand le bâtiment va tu va, dicono i francesi, quando la costruzione va tutto funziona e qui c'è anche una necessità di dare le case a quelle famiglie che avranno la casa distrutta, abbattuta dal provvedimento di cui avevamo poco fa parlato. Io credo che un amministratore che venga dalla trincea del lavoro, come Lettieri, un uomo che ha lavorato tutta la vita, dando buona prova delle sue capacità, un ottimo gestore, un ottimo amministratore, possa essere l'interprete migliore di queste esigenze della città, possa collaborare bene con tutti i suoi colleghi imprenditori, possa collaborare bene con il Presidente della Regione, possa collaborare bene con il Presidente del Consiglio e dia una soluzione positiva a tutti i problemi che affliggono Napoli. Non voglio nemmeno pensare a cosa potrebbe essere se ad amministrare Napoli ci fosse qualcuno che nella sua vita non ha mai amministrato nulla, nemmeno un'edicola di giornali o una bancherella di cozze. Questo io lo escludo e sono invece convinto che i napoletani, lo ripeto, che sanno quali sono le cose giuste, sapranno in questo secondo turno trovare il candidato che va bene per la loro città e non vogliono farsi lasciare nel disastro facendosi ammanettare da un sindaco come quello che propone la sinistra. Ecco, a nome del mio editore, Pino Giordano, del nostro gruppo Italia Mia, la ringrazio per questa intervista e le auguro buon lavoro. Grazie a lei e complimenti per quello che fa la vostra televisione che mette in contatto la politica con i cittadini e fa conoscere ai cittadini quali sono i protagonisti della politica e quali sono i loro programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.